Siamo con Giuseppe D'Acquaro, rappresentanza della CISL, oggi al convegno per la sicurezza sugli itinerari casa lavoro. Quant'è importante questo problema e qual'è la situazione reale? Il tragitto casa lavoro è un elemento di rischio decisamente importante nel mondo del lavoro. Chiaramente balza più all'occhio quando gli incidenti accadono nei luoghi di lavoro, ma questo è un mondo sommerso che invece noi come OPP, come enti bilaterali, abbiamo necessità di approfondire, di studiare, di conoscere meglio, proprio per far sì che si possa fare una reale prevenzione, conoscere i fattori di rischio a pieno, conoscere quali sono gli elementi che portano ogni giorno purtroppo a perdere vita in incidenti che sono collegati al mondo del lavoro, perché orari di lavoro insostenibili, condizioni di stress che comportano il fatto che il lavoro non termini sul luogo di lavoro, ma ce lo si porti anche a casa, chiaramente sono elementi che vanno approfonditi, vanno limitati, bisogna intervenire e l'unico modo per poter intervenire e poter limitare questo rischio è quello di conoscerlo, studiarlo e approfondirlo.